Buongiorno amici e bentrovati in redazione. Parliamo di salute e ci spostiamo in Francia per lo sconcerto scaturito dalla scoperta di sperimentazioni illegali condotte nella struttura Fons-Josefa. Molecole degli effetti ignoti sono state sperimentate su almeno 350 persone affette da Parkinson e Alzheimer, in parte ricoverati presso l'abbazia Saint-Croix. Come riporta Le Monde, i pazienti hanno trascorso nell'abbazia sia la notte che il mattino seguente fino al momento in cui sono stati prelevati per un esame del sangue. Ed è proprio grazie ai campioni inviati in un laboratorio che il test illegale è stato scoperto dalle autorità sanitarie. La Ministra della Salute francese si dissocia e denuncia il pesante errore per cui saranno erogate gravi senzioni. Per saperne di più vi invito a visitare il sito www.lanotteonline.it Vi ricordo la mail di redazione, redazione.lanotte.gmail.com Per il momento è tutto, vi ringrazio per il vostro affetto e mi raccomando iscrivetevi al canale YouTube La Notte Online. Grazie e vi aspetto! Grazie! Grazie!